ragazzuoli ovviamente non si sente nulla mi si sente o no? mi sentite? prima di iniziare già come le altre volte che non si sentiva nulla ok si perfetto si sente ragazzi oggi oggi è un gran giorno oggi è un gran giorno innanzitutto ben trovati a tutti quanti a tutti i master, a tutti i giocatori a tutte le giocatrici perché è un gran giorno oggi un gran giorno per per due motivi il primo è perché finalmente vi spiegheremo nel dettaglio tutta la scaletta della Nidcon con gli ospiti che ci saranno di che cosa tratteremo di che cosa saranno i panel quando ci saranno le sessioni di gioco i tavoli che faremo e via dicendo e poi perché parleremo di un inizio veloce favoloso ma soprattutto estremamente coraggioso allora ragazzi sono molto emozionato perché aspettavo questo giorno da tantissimo tempo e tra beve capirete perché perché è una cosa per noi importantissima ma soprattutto perché parleremo anche di una partnership che è senza senso da quanto è meravigliosa e da quello che succederà allora partiamo con la cosa per noi importante ma che non sarà il top del top che è la Nidcon ovvero il la nostra convention annuale che quest'anno per ovvie ragioni sarà online ma che cosa andremo a fare allora la Nidcon ragazzi partirà da venerdì all'ora di pranzo quindi non ci sarà quest'anno mi dispiace questa settimana qua mi dispiace non ci sarà il Tank Shot is Friday ma ci sarà la Nid Games History ovvero dalle 12 alle 14 noi parleremo di come è nata Nid Games cosa significa avere un'azienda che si occupa di GDR tutte le varie mazzate in faccia che ci siamo beccati prima di iniziare e poi come siamo diventati quello che siamo oggi dopodiché il pomeriggio dalle 14 in poi liberi tutti ovvero dobbiamo lavorare quindi non ci sono sessioni venerdì pomeriggio ma poi venerdì sera dalle 21 alle 00 giù di lì ci sarà la prima sessione live sul nostro canale Twitch visto che la nostra prima sessione live sarà una Nid Games Family ovvero prendiamo tutte le persone che fanno parte del team Nid Games e faremo giocare uno dei nostri giochi live col nostro stile e come giochiamo noi di solito è GDR quindi un sacco di persone ci chiedono come si gioca GDR come giocate voi GDR e faremo vedere come noi tipicamente giochiamo GDR noi siamo molto fortunati perché siamo tutti amici non siamo solo colleghi non lavoriamo solo assieme siamo anche molto amici quindi noi giochiamo anche sempre tra di noi ho solo un enorme dubbio poiché io non sapevo nulla di questa cosa qua e purtroppo c'è una chat maledetta che si chiama Vietate Nicola non sto scherzando con tutto il team di Nid Games stranne io e sicuramente questi brutti stronzi non vogliono farmi giocare venerdì sera allora no cioè non soltanto tu vietato ai Nicola nel momento in cui ci sarà un nuovo Nicola anche lui sarà quindi sarà vietata ah quindi ai Nicola ai Nicola plurale ah quindi non so quindi io scusami Marco ma tecnicamente se io mi cambio assinome anagraficamente parlando forse è più facile cambiare il nome della chat che non il nome anagrafico allora io mi chiamo Marco così non potrà mai essere mai vietato ai Marco che cognome metti mi chiamo mi chiamo mi vietato ai Marco Maria Munari cioè tu vuoi cambiare il nome anagrafico e il mio nome sì perché serve Marco Maria Munari De Gobbis mi chiamai Maria no ma Marco Maria Munari De Gobbis visto fatta la legge e tolto l'inganno comunque annulla tutto ecco visto visto perché è un socio stronzo è una guerra quotidiana ragazzi comunque torniamo a noi è pronto sto cazzo di programma che non mettono vai mettilo su ah sì c'è allora lo secondo così ve lo faccio anche vedere prima lo svelo ah ok prima lo svelo pian piano dopodiché in realtà ragazzi questa qua è la scaletta perfetta precisa come potete vedere massimo dettaglio a noi ci piace tantissimo il digitale si scrive tutto su google non vero un cazzo si scrive tutto quanto a mano dopodiché ragazzi sabato inizia la la need con diciamo vera e propria ovvero dove tutto il giorno si giocherà inizia sabato però mezzogiorno ragazzi sabato mattina no perché finiremo molto tardi venerdì sera saremo putrefatti quindi iniziamo a mezzogiorno la mattina dormite venite però sul nostro disco perché faremo lo stesso macelli su macella sabato a mezzogiorno da mezzogiorno alle 15 ci sarà il fabola ultima press start ovvero ci sarà tutta la genesi di come è nato fabola ultima con l'autore in questa cosa qua avremo Emanuele Galletto di Rooster Games che è l'autore di fabola ultima che parlerà con voi su twitch sarà sul nostro canale twitch sarà il nostro primo panel della need con che ci spiegherà fabola ultima come è nato fabola ultima e in questa occasione qua ragazzi inizieremo a farvi vedere il manuale quindi avrete modo di vedere il manuale fabola ultima avrete modo di vedere le illustrazioni di fabola ultima non solo quelle 4-5 che vi abbiamo fatto vedere finora ma inizierete a vedere tutte le illustrazioni dopodiché inizierete a vedere le schede pre-gen con delle illustrazioni ragazzi che sono qualcosa da fuori di testa e ogni illustrazione delle pre-gen avrà naturalmente anche la sua pixel art perché giochiamo a parliamo di un gioco di ruolo basato in JRPG e se non ci sono le pixel art mega tamugne ignoranti in un JRPG non ci piace in più ci sarà anche un ospite estremamente speciale di una importantissima azienda dopo scoprirete che è con any games ovviamente dopodiché ragazzi arriva la ciccia dalle 15 alle 18 primo turno di gioco di fabola ultima con le schede pre-gen che avete visto che vi faremo vedere durante il pre-start dalle 18 alle 21 il secondo turno di gioco di fabola ultima in questi turni ci sono più di 25 tavoli da gioco vi ricordo che per segnarvi al tavoli da gioco finita questa live verranno aperte le iscrizioni su eventbrite quindi per iscrivervi a tutte le sessioni di gioco di need games ci si andrà a iscrivere su eventbrite per le nostre sessioni ci saranno alle 16 mi sta dicendo dalla regia che oggi escono alle 16 per vostra informazione le sessioni di gioco saranno di due tipi sessioni di gioco per giocatori di ruolo passatemi il termine esperti ovvero che hanno già giocato di ruolo e sessioni di gioco di ruolo per totali neofiti dove verrà spiegato cos'è il gioco di ruolo come si approccia al gioco di ruolo quindi se non avete mai giocato di ruolo la need con sarà perfetta per iniziare a giocare dopodiché ragazzi alle 21 main event della della need con cosa succederà con il main event della need con allora voi sapete che fabola ultima sarà il nostro gioco originale ci siamo lanciati su twitch abbiamo tantissimi amici che sono dei professionisti incredibili di twitch dell'intrattenimento del mondo del gdr del mondo della musica del mondo dello spettacolo e quindi li abbiamo presi proprio li abbiamo avviluppati e con noi faremo questo evento sabato sera sabato sera dalle 21 in poi dentro uno studio giocheremo live ma dal vivo quindi non ognuna a casa propria ma saremo in presenza da parentesi abbiamo preso più di 20 tamponi perché facciamo i tamponi a tutte le persone per giocare in massima sicurezza ci saranno le distanze e tutto quanto ma con noi ci saranno un bel po' di amici un bel po' di ospiti giocheremo una sessione live di fabola ultima masterizzata da me quindi si qua non è vietate Nicola brutto stronzo qua è fabola ultima col mio stile quindi non ci terrà un cazzo con rego di fabola ultima probabilmente per la felicità di Emanuele non prendere i dobloni fa allora con noi giocheranno Gianandrea e Matt di Intail dopodiché giocheranno la Roberta Cichibe giocherà Samuele di 20 facce e giocherà uno dei membri che ha aiutato a fondare Need Games e che adesso ha deciso di intraprendere una candiera da Locandiere ovvero Andrea Lucca e il Rosso uno dei nostri più cari amici nonché un enorme patito di JRPG si qua ci stava il tutto naturalmente sarà condito da grafiche JRPGose con le varie art del manuale ogni personaggio avrà la propria pixel art sempre sul nostro canale Twitch ma in più ragazzi che cos'è un JRPG senza la musica 8 bit che l'ha sempre contraddistinto quindi in live con noi ci sarà il meraviglioso Ken Hobbit che con Game Boy e Nintendo DS farà DJ set in tempo reale di tutta la colonna sonora della sessione quindi dalle boss fight alla musica chill alla musica strappa lacrime con la sua stazione di gioco ragazzi sarà una figata devastante io sono fuori di faccia cioè io non vedo l'ora di giocare sto impazzendo dalla voglia che parta Stanit così finalmente non solo giocheremo a cannone a fabula ultima ma lo giocheremo in una maniera veramente coi controcoglioni con delle persone incredibili che giocheranno con noi ma soprattutto anche con una musica incredibile con una regia pazzesca perché ci sarà Luca dintela a farci la regia con Marchino e Pedro che faranno da assistente alla regia e supervisione format c2 punti format c2 punti spegnite le camere quindi sarà veramente feedback una cosa bellissima specialmente perché giocheremo con amici a il nostro primo gioco originale non vediamo veramente l'ora dopodiché ragazzi felici contenti morti devastati arriva la domenica domenica si gioca a cannone e in più ci sono altri panel l'orario di gioco della domenica e via il foglio squafato ci sarà dalle 10 alle 13 la prima sessione di gioco misto con un boato di tavoli a tutti i nostri giochi anche in questo caso qua ragazzi ci sono le due tipologie di gioco per master per scusatemi per giocatori esperti e per giocatori neofiti dopodiché dalle 13 alle 15 altro panel sul nostro canale twitch dove parleremo di nostri giochi con gli autori tra cui ci saranno Francesco Nepitello che ci parlerà di Unico Anello Francesco Nepitello è l'autore di Unico Anello di quella figata devastante la seconda edizione di Unico Anello che va che adesso è in kickstarter kickstarter di Fria Ligan che sta facendo dei numeri allucinanti è di una bellezza folle finalmente portiamo in Italia la seconda edizione di Unico Anello e quindi chi meglio dell'autore che è anche nostro amico per parlare di Unico Anello vi ricordo che con Francesco abbiamo scritto assieme a Francesco Maggi Francesco Nepitello Marco Maggi e io e io Marchino e Pedro abbiamo scritto anche Zombicide Chronicle e il gioco di ruolo basato sulla famoso gioco da tavolo Zombicide e quindi ci sarà Fra che ci parlerà di Unico Anello magari parliamo anche un po' di Zombicide che è figo Marchino no? perché no? in programma ah in programma ah sì ah ok vabbè vaffanculo no è vietata Nicola quindi io non son cazzo quindi ci sta vaffanculo vietata il marco della mia vita basta vietata il game dopodiché ci sarà con noi anche Elios Poo Elios Poo è l'autore di Daccajar RPG il gioco di ruolo che stiamo scrivendo per Panini che sarà all'interno di Daccajar il fumetto scritto da Matteo Casali quindi ci sarà anche Elios che ci parlerà di Daccajar Elios come sapete è un personaggio assolutamente eclettico del panorama gd-ristico italiano autore incredibile non vediamo l'ora di averlo finalmente anche lui sul nostro Twitch poi è una zoccola quindi gli piace tantissimo stare con noi su Twitch assieme a noi e infine Rob Roberto Recchioni autore di Campfire con cui appunto andremo a parlare Campfire e inizieremo a farvi vedere un po' di cosuccio interessanti questo dalle 13 alle 15 dalle 15 alle 18 e dalle 18 alle 21 ci sarà sessioni di gioco libero bordello allucinante N.000 tavoli sul nostro Discord quindi potrete giocare come dei pazzi vi ricordo un'altra volta che per segnarsi ai tavoli oggi alle 16 su Eventbrite posteremo ovunque i link potete andarvi a segnare naturalmente è tutto gratuito infine ragazzi alle 21 c'è il reveal party mortale perché se siete stati abituati bene a Lucca dove abbiamo lanciato un milione e mezzo di giochi per la prima parte del 2021 e 21 questo reveal party sarà oltre ma robe allucinanti perché annunceremo dell'AP da fuori di testa annunceremo un sacco di cose molto ciccione annunciamo qualcosa anche per la Nidelp sì annunceremo anche qualche nuovo manuale della Nidelp quindi ragazzi sarà qualcosa di assurdo e dopodiché concluderemo appunto in bellezza la Nidcon magari facciamo anche vedere cosa sta a riuscire esatto oltre alle cose nuove vi aggiorneremo anche sulle cose che vi abbiamo già annunciato dandovi anche delle timeline che cosa sta uscendo lo stato dei lavori e via dicendo vediamo qualcosina notte prima facciamo vedere anche qualcosa in anteprima quindi un bel po' di figate Marchino c'è pronto adesso il file di Recappone così lo guardiamo assieme no non c'è lo vedo no non c'è probabilmente alla fine della live ok alla fine della live ragazzi quindi se avete domande guardate prima di lanciarvi perché adesso tra poco sto per lanciarvi una bomba atomica di proporzioni folli quindi prima di lanciare la mega bomba atomica allucinante se avete delle domande sulla Nidcon visto che oggi lunedì come sapete è la chat aperta a tutti dove si parla si cazzegge di GDR in teoria dovrei stare qua a rispondervi alle vostre domande sul GDR ma quello che sta per arrivare tra poco è una roba talmente da fuori di testa che io non ce la faccio vorrei già mandare a fanculo tutti e farvi già vedere cosa sto parlando però non posso mi stanno dicendo che devo allungare sta roba qua quindi adesso vediamo un po' che domande avete sulla Nidcon sì sulla Nidcon allora ma per neofiti che si intende neofiti il sistema del GDR in generale entrambi è più dedicato ai neofiti in generale che non hanno mai giocato di ruolo prendete caso ragazzi che anche se siete dei giocatori di ruolo esperti se vi mettete al tavolo e non conoscete le regole del gioco e vengono sempre comunque spiegate non preoccupatevi quindi state tranquilli non bisogna assolutamente conoscere il gioco per giocarlo invece le sessioni per neofiti proprio ci spiegano che cos'è il gioco di ruolo come si approccia come si gioca di ruolo e quindi tutti dei dettagli in più che magari sono insite per le persone che conoscono queste cose qua Unicanello sarà in edizione limitata Marchino Unicanello facciamo l'edizione limitata di Unicanello ma è detto tutto cosa è quello che mi ha detto Pedro ma è detto tutto ma è cazzo i vostri adesso bisogna trovare la situazione le sessioni per neofiti sono per chi a parte chi non ha mai giocato di ruolo ma vedi qua Marchino c'è Marchino che le sessioni per neofiti dove sei? dai più lontano si possono avere due no non si può è l'offiscan funziona no non funziona vieni qua allora dicevamo le sessioni per neofiti dove sono qua le sessioni per neofiti non sono solamente le destinate a chi non ha mai giocato di ruolo sono destinate anche a chi non ha mai giocato a quel gioco lì allora perché mi fai dire una cazzata? ma non l'ho detta io questa cazzata nessuno te l'ha detta sei tu che te l'ha sentita basta ragazzi le sessioni featured con l'avventura è per chi già conosce il gioco ok ok batti batti ditemi voi se si può lavorare in questa maniera è una roba una roba vergognosa come vengo trattato cioè rendetevi conto unico anello tra l'edizione limitata si che meccaniche usa unico anello sono le edizioni le meccaniche riviste della prima edizione ovvero D6 e un D12 dopodiché vediamo altre cose sto lanciando i soldi contro lo schermo perfetto però non mi arrivano quindi non va bene annuncerete anche data del quick start di fabola ultima no non annunceremo la quick start di fabola ultima alla Nidcon no perché non annunciamo la Nidcon la data di quick start di fabola ultima perché allora domenica le sessioni sono su di fabola ultima no allora sab ragazzi sabato è dedicato a fabola ultima è il fabato bruttissimo è il fabato sono un amministratore speciale sabato sarà dedicato a fabola ultima dove ci sarà il panel di fabola ultima e poi la giornata dedicata a fabola ultima solo il sabato la domenica ci sono una marea di tavoli di tutti i nostri giochi quindi visto che tantissime persone vogliono giocare a fabola ultima abbiamo focussato le due sessioni le due no sessioni scusate i due come cazzo si chiamano i blocchi i due blocchi di gioco dalle 15 non mi ricordo più un cazzo le 15 alle 18 e dalle 18 alle 21 su fabola ultima la domenica invece tutti i tre blocchi sono tutti i nostri giochi che sessioni masterizzo io boh io di solito masterizzo qualsiasi cosa quello che non c'è Nico il sabato si crea assieme l'ambientazione no nelle sessioni demo di fabola ultima no non si crea l'ambientazione si crea un misto perché se no perdi un'ora e mezza per fare l'ambientazione è un'avversione accelerata di come si fa un'ambientazione quindi avrete andrete a posizionare sulla mappa i luoghi deciderete voi la storia dei luoghi però i personaggi sono già tutti pregenne e via dicendo decidete che tipo di gruppo volete giocare e da dove provenite fabola ultima già una data d'uscita sì e lucca 2021 dopodiché mappe online è una cosa che non c'entra nulla con la con la con la nidco ma però puoi usare incarnate è eccellente ma madonna quanto cazzo è scritto è scritto come dei dei pazzi allora Nico no ma quindi se non so giocare a fabola ultima vuol prendere le one shot da neofita no per fabola nessuno sa giocare a fabola a parte io che sono il dio però per il resto nessuno sa giocare a fabola neanche 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 Emanuele sa giocare a fabola allora per il senso usare solo discord quindi niente plancia alla roll 20 no dipende cosa vogliono fare i master fondamentalmente si usa solo discord se qualcuno vuole anche usare roll 20 può usarlo però sì per tutte le anticipazioni ragazzi dovete aspettare la nidco non vi do anticipazioni quindi non mi rompete le le palle allora marchino penso che sia arrivato il momento oh santo cielo Pedro sì sì è arrivato il momento purtroppo è così non va bene vai vai su no è arrivato il momento allora ragazzi arriva 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 no vado su canon intanto cos'è canon sulla telecamera ah sì allora ragazzi come sapete a me piace un po' fabula ultima so se si è notato ultimamente e oggi è una giornata che ha un inizio veloce e favoloso ok potrebbe anche essere coraggioso o anche normale come sapete moltissimi ultimamente ci stanno chiedendo il quick start di fabula ultima allora il quick start di fabula ultima quello uscirà più avanti ma però ci sono troppe persone che vogliono giocare a fabula ultima e una cosa che ci siamo resi conto è che molta gente ci ha detto ma qua appena esce fabula ultima vorrei giocare a a questa ip piuttosto che quest'altra cazzo ho comprato la switch ho appena giocato a xenoblade chronicles ma sarebbe fighissimo giocare a xenoblade con fabula ultima ma io ho giocato a secret of mana e poi c'è arrivato un messaggio c'è arrivato un messaggio da uno che diceva oh ma il 26 esce breveli default breveli default 2 chissà come giocare a breveli default 2 con fabula ultima chissà questo messaggio però non l'ha scritto marchino non l'ha scritto pedo non l'ha scritto quel disgustoso di samu del rosso com'è che si chiamava si chiamava il mio stesso nome nintendo c'ha scritto nintendo nintendo c'ha scritto ma com'è giocare a breveli default con fabula ultima ho detto boh secondo me potrebbe essere una figata devastante ma quasi quasi ragazzi ma perché non usiamo fabula ultima per lanciare breveli default 2 ah io ho pensato ma si è tanto alla fine a me i jrpg piacciono un po' alla fine cosa vuoi che sia un gioco square enix come come breveli default 2 cosa volete che sia c'è un ip bassa per una software house così comunque il il fattaccio quello che ci ha fatto questa proposta qua è stato il nostro caro amico nonché brand manager di nintendo brand manager di nintendo che salutiamo che è Dario Cavallone che sarà tra parentesi l'ospite quindi avremo Dario di nintendo come ospite alla needcon al panel di fabula ultima che ci parlerà appunto di com'è giocare i jrpg alla in maniera cartacea in particolar modo breveli default ma abbiamo detto ma perché fare solo una sessione così per di fabula ultima dedicata a breveli default arriva la cavalloneria la cavalloneria perché non facciamo un quick start di breveli default mai si fa un quick start facciamo prima giocare però alla fine noi siamo bravi a far giocare persone però c'è gente comunque che è brava come noi se non di più a far giocare sicuramente c'è che muove le masse veramente in maniera pazzesca quindi perché non farlo giocare agli amici di nintendo fabula ultima come breveli default ma aspettate allora facciamo una cosa facciamo una cosa meravigliosa andiamo su il twitch dei ragazzi di entail facciamo una sessione da fuori di testa ufficiale di fabula ultima basata tutta su breveli default 2 e chiamiamo nico a masterizzarla perché no sarebbe una figata allucinante quindi ragazzi mercoledì 24 sul twitch di entail la sera ci sarà la sessione ufficiale di fabula ultima breveli default 2 giocata da tutto lo staff di entail e masterizzata dal master più bello del mondo più affascinante con più verve marco in ultimi guardi così sto parlando di me brutta testa quindi si ragazzi il 24 sera si giocherà a fabula ultima breveli default 2 sul canale twitch degli amici di entail ma aspettate il gioco ufficialmente breveli default 2 verrà lanciato il 26 venerdì 26 ma allora perché non facciamo giocare gli amici di entail al gioco per la switch quindi il gameplay ufficiale il giorno del lancio agli amici di entail e quindi tutto il team di entail giocherà a fabula ulti a breveli default 2 sulla switch dove naturalmente dove andrò anch'io a fare l'imbecille per ruolare i testi perché ragazzi vi faccio vedere come giocherò io jrpg quindi prossima settimana si ruola era duro perché mercoledì sera si gioca fabula ulti a breveli default 2 giovedì sera c'è la live che ricomincia finalmente entail e sabato scusatemi venerdì vedrete gli amici di entail e il sottoscritto giocare alla switch con alla switch di breveli default 2 dove vedrete il gameplay e ragazzi è uno dei jrpg più fighi che esistano quindi dovete assolutamente giocarci il punto ragazzi lo so lo so quanto cazzo deve essere dura vedere bellissimo vedere gli altri giocare è veramente bello però voi vedrete i ragazzi il 24 sera che giocano con un master bellissimo come me il 26 che giocano al gioco per la switch che dopo correrete sicuramente a comprarli ma però com'è giocare breveli default 2 con fabola ultima quanti di voi lo vorrebbero giocare l'abbiamo detto però non ci sembra carino nei confronti della nostra community nei confronti della community dei ragazzi di entail noi parliamo tanto in fabola ultima però voi a parte queste le sessioni di sabato quando potrete giocarlo allora vaffanculo sabato 27 febbraio su nice coordinate games dalle 10 del mattino a mezzanotte potrete giocare tutto il giorno a breveli default 2 col sistema di fabola ultima con le schede ufficiali di breveli default 2 con i personagini ufficiali in cui masterizzerò anch'io non so quando però ci sarà tutto il giorno e se uno non c'è e se io non ci sono cazzo il 27 non ci sono non posso giocarlo come facciamo il quick starter di fabola ultima non c'è quindi non sapete le regole ve le potete studiare allora abbiamo deciso di farvi un regalo e di farci un regalo abbiamo deciso di fare il quick starter di fabola ultima con breveli default 2 è un quick starter da 26 pagine è un quick starter con le illustrazioni ufficiali e non vogliamo vederlo un pochettino assieme brutti stronzi che siete qua al mio compleanno le cose no voi dovete impazzire io vi voglio vedere con la bava alla bocca perché ve lo scorro veloce questo è il quick starter questo è non so se avete visto le figate devastanti guardiamo un attimino solo le regole ma che poveri è gratis è un quick starter è gratis mica dovete darci i soldi per questo qua dovete giocare di ruolo dovete andare a comprare breveli default 2 perché è il più bel jrpg del mondo e se volete cazzo iniziare a capire come si giocherà a fabola ultima dovete giocare jrpg andatevi a prendere una switch perché se voi amate i jrpg nella switch c'è sono le figate che hanno fatto la storia dei jrpg tutta all'interno di quella console che è un orgasmo per gli occhi è una cosa devastante scusa e no che se è jrpg lo sto impazzendo Marco ci stiamo annunciando finalmente sta figata compressore funziona senza allucinanti non funziona mi fai mandare avanti che voglio far vedere le cose sono impazzito scusatemi ragazzi che sto veramente prova a e i prova a urlare fermo urla ok ok basta adesso puoi parlare ok e se però devo vedere perché mi sa il mouse senza mouse come scrollo allora ragazzi voglio farvi vedere un po' del del quickstar quickstar sarà scaricabile gratuitamente dal nostro sito non subito perché voglio ancora un pochettino farvi impazzire allora Bravely Default 2 è il terzo capitolo ragazzi della saga di Bravely Default c'è stato Bravely Default Bravely Second e adesso c'è Bravely Default 2 si stacca dalle dalle storyline precedenti in questo caso qua è stato scritto sempre da Emanuele Galletto è in cerca del cristallo ed è uno scenario demo per il lancio del videogioco Bravely Default 2 con il sistema di gioco di ruolo da tavolo fabola ultima per 4 o 6 partecipanti eh adesso è basso ok questo qua non urla più ok non urlo più vi prometto che non urlo più anzi cercherò di non urlare più proviamo a far così ok dai non urlo non urlo cerco di contenermi mi contengo ok provo a urlare un attimo ah 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 niente non ce la fanno vabbè dai non urlo non urlo non urlo come si chiude ragazzi scusate ragazzi scusate ma sono veramente veramente felice cioè questa qua per noi è una collaborazione importantissima c'era già capitato di collaborare con nintendo in passato per il lancio di Fire Emblem Three Houses però questo per me è l'apoteosi perché tratta il nostro primo gioco di ruolo originale su un IP che io amo alla follia quindi è bellissimo allora il problema cos'è ragazzi molti di voi non avranno idea di cos'è Favola Ultima finché non avranno in mano o il quickstarter è ufficiale di Favola Ultima che sarà proprio stampato il classico quickstart che uscirà più avanti però voi abbiamo voglia noi abbiamo voglia veramente che voi giochiate a Favola Ultima per il semplice fatto che io sono bravo a dire un sacco di cazzate però quando diciamo che giocare JRPG con Favola Ultima ti dà veramente il quel quella sensazione lì adesso potrete vederlo perché come funziona come è fatto il quickstart guardiamolo assieme innanzitutto cioè guardate le art guardate le cose io sto impassando pianco dalla felicità c'è un'introduzione dopodiché ci sono le regole base come si gioca Favola Ultima delle regole base da quickstart quindi ready to use voi le prendete e potete giocare immediatamente vi spieghiamo come si fanno i test di Favola Ultima tutto in italiano vi spieghiamo le caratteristiche quali sono le difficoltà il tiro maggiore che cos'è il doppio 1 successo critico le opportunità quindi quando fate un critico cosa succede e i clock che sono una delle meccaniche più belle di Favola Ultima per ciò che riguardano i rituali o prove particolarmente complesse dopodiché i vari status come potete immaginare sono fondamentali gli status nei JRPG i punti Favola il proprio il core del sistema di Favola Ultima come viene utilizzato il denaro i punti vite i punti mente la figata è vastante ve la zoomo perché io impazzisco qua io adesso questo qua vado proprio fuori il test mi piace da morire guardatelo sto zoomando per fargli vedere la figata delle varie pozze e delle varie cose vedete ecco è andato già via qua finita 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 per sempre delle varie pozze cancellato il quick start delle varie pozze allora guarda zoom ancora pam guardate qua la meraviglia come sapete vedete i punti inventario vengono usati per fare le varie figate per utilizzare le pozze e via dicendo quindi diminuisco ancora che è troppo grande così op ancora uno tacchete ecco ho fatto cosa c'è dopodichè ragazzi la il questo qua è proprio per iniziare a giocare poi i conflitti ovvero come si fanno i combattimenti che cosa sono i conflitti che azioni ci possono essere durante i conflitti come funzionano i round i turni le varie cose che si possono fare in combattimento l'attacco il mettersi in guardia l'incantesimo usare i punti inventario per prendere cose dell'inventario i vari obiettivi perché si può fare il proseguimento di obiettivo durante l'azione distanze teamwork e fuga perché si può sempre scappare come tutti i jrpg dopodichè ragazzi ci sono le schede personaggio le schede personaggio sono editabili sono il master più bello del mondo bello tacchete eccoci qua quindi c'è anche il dosh anche il dosh comics si ha donato 10 euro ci ha ridato i soldi delle t-shirt ma fammela mettere subito allora ragazzi qua ti bannano ti bannano ti bannano non c'è notarti non mi so di non dare sto giro no ci bannano ci bannano anche il josh ragazzi andateli a lanciargli i soldi addosso perché fa tutte queste a parte fa le strip di comics gdr più fighe del mondo ma fa queste t-shirt incredibili perché c'è scritto wash first perché c'è il covid ha il covid bene quindi adesso farò la live con questa maglietta addosso guardate che bella just it anche tu con just it anche in blue ah in blue ecco qua quindi che vuol dire a sto giro no perché mi ero già denudato in passato su twitch lasciamo perdere su idea davvero di daniele bossari neanche mia quindi prendiamoci conto allora ragazzi qua c'è la le schede dei personaggi con i personaggi ufficiali di presenti all'interno del team del party di bravely default allora in teoria sarebbero solo 4 qua nelle schede pregenerate le abbiamo fatti 5 così se qualcuno vuole 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 giocare a un party con più di 4 persone può giocarci è spiegato tutto se voi non avete idea di come si gioca fabola ultima e il master vuol farvi giocare c'è un piccolo riassunto in basso a sinistra su quali sono le regole principali di fabola ultima ovvero come si guadagna i punti fabola come si spendono i punti fabola il glossario dopodiché le azioni gli job che hanno le varie classi quindi adele è un multi classe monaco fante corazzato con l'identità e il tema quindi avete anche sia i tratti che bond per poter ritriare quindi adele è un abile mercenario ingaggiata da elvis per accompagnarlo nella sua ricerca ed è uno dei personaggi giocanti all'inizio di bravely default la demo inizia è la continuazione scusatemi questo scenario è la continuazione della seconda demo di bravely default è sempre ambientata a salvalon se non avete giocato la demo andateci è molto bello giocare la demo di bravely e poi partecipare a questa a questa giocare a questo scenario qua e il 26 comunque uscirà il gioco che vi consiglio caldamente dopodiché ci sarà tutte le parti editabili della scheda quindi le stat con il dado stat i vari status che potete andare a prendere la difesa e la difesa magica i punti vita i punti menti i punti inventario i soldi le tre cose principali che potete usare dal punto inventario ovvero le pozze l'ethere e i rimedi l'equipaggiamento prego notare con certe gente stanno a vedere come sarà fatta comunque la scheda di la scheda scusatemi di fabola ultima in questo caso qua è stato riadattata per bravely default però tutte quante avranno sarà molto presente la pixel art per ciò che riguarda l'equipaggiamento e l'inventario perché è la base di jrpg e le abilità le abilità ragazzi sono le abilità che voi trovate nel videogioco quindi se voi diadella attivate alchimia interiore avete alchimia interiore dentro il videogioco se voi utilizzate dolore e potere avete dolore e potere dentro il videogioco e via dicendo uccello di fuoco è uno degli attacchi più importanti che ci sono presenti all'interno delle abilità di adela all'interno del videogioco dunque avremo adel che appunto monaco più fante corazzato e anche dei piccoli tip di come utilizzare il personaggio colpisci duro quando sei ferita poi recupera le forze con alchimia interiore è questione di equilibrio ricordate la mia risa coca cobalans sorcerer personaggi incredibili poi abbiamo Anihal Anihal è l'unico personaggio che in realtà non è tra i personaggi giocanti nella demo di Bravely Default nella demo del videogioco di Bravely Default l'abbiamo inserita per far sì che se siete appunto in cinque giocatori potete dargli questa scheda è un come job addomatore tutto fare la cosa bellissima che può catturare gli animali avversari ad esempio l'abilità cattura presente nel videogioco puoi usare un'azione per tentare di catturare il nemico il game master ti dirà quale avversario possono essere catturati effetto on test di vigore più volontà più cinque se il tuo risultato è pari o superiore ai punti vita correnti del bersaglio viene sconfitto e catturato il game master ti comunica le sue abilità speciali quindi va in giro con i minion fare disastri allucinanti poi abbiamo Elvis un eccentrico e sagace studioso impegnato nel decifrare i segreti di un grimorio ereditato dal suo mentor identità eccentrico studioso di asterischi tema ambizione job mago nero e mago bianco sfrutta le vulnerabilità elementali con i tuoi incantesimi ma attenzione a non finire i punti in mente le abilità a crio a energia a ignis a tuono e a energia solare dopodiché abbiamo gloria è uno dei personaggi più importanti allora piccolo spoiler bravely default 2 a differenza di andare a trovare e andare a chiedere ai cristalli dei vecchi che vi conferissero il loro potere in questo caso qua gloria è la principessa del regno perduto di musa e la cerca dei cristalli perché musa era il regno che teneva in custodia i cristalli sono stati rubati è successo un disastro allucinante hai detto musa? no ho detto musa quindi ragazzi c'è è un personaggio tra i fondamentali in questo caso qua il suo il suo job quindi sempre ragazzi vi ricordo fabola ultima si va molto in multiclasse si è la base di tutto quanto mago bianco più tutto fare utilizza gli incantesimi per proteggere e guarire e sfrutta il tuo arco contro gli avversari volanti è importantissimo il le sinergie tra giocatori ad esempio dov'è qua? era qua esamina l'abilità di di gloria puoi usare un'azione per analizzare una creatura il game master ti rivela i tratti le vulnerabilità e punti vita massimi della creatura scelta è fondamentale ultimo personaggio nonché quello più iconico adesso è breve di default 2 è Seth un marinaio naufragato in questa terra dopo una terribile tempesta accompagna Gloria nella sua missione come job è un fante corazzato tutto fare protegge gli alleati con egocentrismo ma sono io è infliggendo status negativi è marchino in caso di emergenza usa vitamina e pedro egocentrismo come funziona questa abilità puoi usare un'azione per effettuare un test di vigore più volontà più uno contro la difesa magica di una creatura è spiegato tutto eh ragazzi spiegato veramente tutto quanto nel dettaglio quindi se voi non avete idea di favola ultima vi leggete la scheda siete già pronti a giocare master leggetevi le quattro pagine iniziali di regole sono quattro pagine volete giocare a favola ultima quindi vi prendete ve le studiate non gli do una letta sommaria no non fate gli stronzi leggetevele perfettamente egocentrismo puoi fare un'azione per effettuare un test di vigore più volontà più uno contro la difesa magica di una creatura descrivi descrivi ruola ragazzi è un gioco di ruolo ruola descrivi è stato anche bravo galletto a scrivere descrivi perché cazzo devi ruolare in che modo provochi quella creatura il game master può darti un bonus di più due o una penalità di meno due a seconda dell'efficacia della tua provocazione tra parentesi se ruoli bene hai un bonus di più due e per bene intendi non se sono un cazzo di alpacino che so fare l'interpretazione della madonna ma nel senso se so avere l'invettiva questo è la cosa importante quindi inventiva con la n n n di nicola n di vietato di nicola stronzo fa l'orlare la perfetto ok meglio dopodiché se questa mia prova entra se ho successo la creatura subisce lo status furente ed è costretta a concentrare la sua attenzione su di te deve includerti il bersaglio dei suoi tacchi ogni volta possibile questa costrizione rimane finché la creatura è furente quindi è un ottimo taunt spacca crani quando colpisce l'avversario con un attacco della grandascia la grandascia anche bella di concina dai ma chi nota di qua c'è la concina bellissima a forma di ascia se non urli non ti devo cambiare il conto c'è vitamina puoi usare un'azione per spendere 5 punti mente per scegliere una creatura alleata la creatura scelta recupera 10 punti vita e 5 punti mente sti qua ragazzi sono tutte abilità presenti nel videogioco questo qua è un esempio lampante di qualsiasi p voi amiate e ci volete giocare fabola ultima quanto bene funziona il tutto dopodiché ragazzi qua sono le schede naturalmente dentro il quick start trovate le schede che ve le potete stampare ci potete giocare quanto volete dopodiché basta ragazzi non vi faccio più vedere nulla c'è in cerca del cristallo ovvero attenzione solo per game master qua viene spiegata tutta l'avventura quindi non mi sembra il caso di farvi vedere oltre no perché faccio no faccio veloce quindi c'è si lo so però basta è insomma andato avanti riusciranno gli eroi della luce a sventare i piani del diabolico Bernard scopritelo su brevoli default 2 per nintendo switch ma cos'è questo questo è un prologo è un ciclo che cos'è l'ho già detto è la continuazione della demo che ti fa entrare dentro il ti fa entrare dentro il mondo perfetto il brevoli default allora ragazzi capite perché ero così esaltato oggi capite perché ero così felice capite perché non aspettavo altro di parlare con voi perché questo gioco qua lo amo lo amo follemente lo amo follemente e soprattutto avere l'occasione di aver potuto lavorare a brevoli default 2 è un onore è una gioia incontenibile sia professionalmente ma personalmente chiunque mi conosca sa che oltre GDR ho una scimmia babuinesca per i JRPG a mio avviso sono degli strumenti narrativi incredibili sono utilissimi per chiunque voglia giocare di ruolo ti permettono di vivere delle avventure che sono molto spesso molto lineari però estremamente epiche hanno dei tropi specifici e a mio avviso è il genere videoludico che preferisco di più Square Enix la vecchia Squaresoft è una la software house a mio avviso con cui siamo cresciuti ha fatto tutti i Final Fantasy tutti i Dragon Quest i Crono Tigre i Secret of Mana e Xenogear i Crono Tigre che lotta contro il malo contro il malo non si riesce non funziona e quindi comunque ragazzi a poter lavorare a un IP del genere ci sono stati felicissimi stati felicissimi poiché Dario che oltre ad essere un amico e per mezzo di Nintendo è un grande giocatore di ruolo quando ha avuto modo di giocare con me a fabola ultima mi ricordo che ha detto cazzo ma sembra veramente di giocare a un JRPG è pazzesca sta cosa qua quindi ragazzi a breve sarà disponibile da scaricare quindi manca veramente pochissimo per avere tra le mani questo quick starter cioè in realtà potremmo già metterla a scaricare però siamo stronzi aspettiamo farvi venire un pochettino di hype vi ricordo gli appuntamenti importanti per ciò che riguarda Brevely Default 2 e fabola ultima il 24 febbraio mercoledì 24 febbraio alla sera canale Twitch di Intail ci sarà il team di Intail seduti intorno al tavolo che giocherà con me come master questa avventura che vi ho appena fatto vedere con questi personaggi qua quindi se intanto volete iniziare a leggere i personaggi potete vedere come funzionano vi potete già fare un po' la bocca di come potrebbe essere la sessione il 26 cioè il lancio ufficiale di Brevely Default quindi andate a preordinarlo preordinatelo chiamate il vostro negozio di fiducia ordinatelo sull'eShop di Nintendo anche se ragazzi questo è un gioco che bisogna avere fisico questo è un gioco che bisogna avere fisico perché è incredibile in quell'occasione lì giocheranno i ragazzi di Intail e andrò anch'io a introdormi per rompere le balle come al mio solito il videogioco di Brevely Default 2 quindi esattamente quello che potrete giocare anche voi vi farò vedere come gioco io i JRPG perché io li ruolo cioè io metto tutte le voci quando leggo i dialoghi e cose del genere e infine il 27 per far giocare a tutti quanti questo quick starter questa avventura questo scenario scritto apposta per Brevely Default 2 sul discord di Need Games naturalmente ragazzi ci sarà scritto tutto questo sul discord di Need Games dalle 10 del mattino a mezzanotte tutto il giorno faremo sessioni di Brevely Default 2 utilizzando il sistema di fabbola ultima importante faremo giocare esattamente questo scenario quindi se voi volete giocare con noi con me con le altre persone non andate a leggervi e spoilerarvi tutto leggetevi solo le regole e solo i personaggi se poi volete spoilerarvi tutto e leggete tutto quanto pazienza chi se ne frega naturalmente dalla prossima settimana partirà la comunicazione di tutto di tutto quanto quindi saprete dove come quando sui nostri canali sui canali di Intel sulla community di Nintendo ci sarà ovunque quindi è impossibile che non lo vedrete se siete giocatori di ruolo se amate noi se amate gli amici di Intel se amate Nintendo se amate i JRPG se amate GDR questo è un evento che non potete perderlo vi ricordo inoltre che alla Needcon questo sabato è un fabato sabato totalmente dedicato a fabula ultima dove dalle 12 alle 15 si parlerà di no dalle 12 alle 15 si ah c'è ah ragazzi vi faccio vedere adesso mi hanno detto che c'è calendario Needcon oh che meraviglia ve lo faccio vedere adesso ragazzi qua c'è tutto il il progetto della Needcon di come funzionerà tutta la settimana scusatemi tutto il weekend e ricapitoliamo Need Games History su Twitch venerdì 19 febbraio parte alle 12 e finisce alle 14 due ore dove parleremo di di Need Games di come è nata l'idea della Needcon l'idea di fare la Needcon online in questo periodo di pandemia dopodiché dalle 2 alle 9 tranquillità perché dobbiamo lavorare dobbiamo anche ricapitolare riprendere le forze sessione la sera Need Games Family quindi con tutti i membri di Need Games sessione su Twitch perché non ci sono io scusami Marco perché c'è la chat è della chat e allora io non faccio partire la chat ma io ho fondato sta cazzo di azienda io voglio giocare ma non la chat leggi non c'è scritto la chat c'è scritto Need Games Family session su Twitch vietata di cola puntata eh Marti che c'è un sacco di roba da dire vabbè ma proprio un sacco no ma sono triste poi da mezzogiorno alle 15 il Sabola e il Sabula il Sabula di Fabato il Sabula di Fabato sono un amministratore delegato special c'è prestart su Twitch dalle 12 alle 15 dove si parlerà di Fabola Ultima con Emanuele Galletto autore di Fabola Ultima e ci sarà con noi anche Dario Cavalloni per avere un cavallone scusate perché era cavallone ah cavalloneria scusate Dario Cavallone per la cavalloneria dove appunto Emanuele ci spiegherà tutta la genesi di Fabola noi spiegheremo perché abbiamo voluto portarlo in Italia a fare editori anzi in Italia a livello mondiale e Dario perché comunque ha voluto anche appoggiarci a noi per il lancio di Beverly The Fall 2 dopodiché 15.21 tutto il pomeriggio un boato di tavoli di Fabola Ultima su Discord vi ricordo che in pre-start iniziamo a far vedere il manuale che vi ho fatto vedere adesso il quick start con le illustrazioni ufficiali con le schede personaggio che andremo a utilizzare una cosa che potremmo fare adesso lo dico Eman anche se adesso mi ucciderà vi faremo vedere come fare un boss a fasi per farvi capire quanto è semplice ed è bellissimo dopodiché dalle 21 alle 24 Fabola & Friends session su Twitch dove con Gian e Matt di Intail con la Roberta Cichibe con Samu di Ventifacce e con Andrea Lucca e Rosso il famoso locandiere della Locanda del Drago Rosso faremo una sessione di Fabola Ultima in studio in piena sicurezza ragazzi questo è importante dove ci sarà anche come ospite Ken Hobbit che in tempo reale farà tutta la session musicale utilizzando musica 8-16 bit con Game Boy e con Game Boy Advance con Luca il regista di Intail che ci farà la regia e con Marchino e Pedro che saranno a Pedro marcheggiare dietro le quinte dopodiché domenica ultimo giorno della NeedCon oh grazie grazie giocherina grazie ragazzi grazie per il ride grazie grazie infinite veramente top fa piacere questi ride ah siamo ragazzi noi stiamo lanciando la nostra NeedCon di questo weekend abbiamo appena annunciato il lancio di Bravely Default 2 per Switch che faremo giocare noi con il nostro gioco originale Fabola Ultima e adesso stiamo presentando tutto il il programma della NeedCon dopodiché ragazzi ultima giornata della NeedCon domenica 21 febbraio tavoli liberi dalle 10 alle 12 alle 13 di tutti i nostri giochi poi NeedPanel ovvero un panel con i nostri autori in cui saranno presenti Francesco Nepitello che ci parlerà di Unico Anello che adesso c'è il Kickstarter di Friar Liga più di Zombicide GDR e Zombicide Chronicles che abbiamo aiutato a scrivere dopodiché ci sarà Elios Pua autore di Daccajar che ci parlerà di Daccajar e eventuali altri progetti Roberto Recchioni che ci parlerà di Campfire inoltre ci sarà anche Musta che parlerà dirà posso dire con i 5 anelli o no sì sì Musta che avremo qualche sorpresa per i 5 anelli mettiamola così dopodiché finito dopo le 3 non so un cazzo che non dico questa roba qua NeedPanel finito il NeedPanel sul Twitch dalle 15 alle 21 altro boato devastante di tavoli da gioco di tutti i nostri giochi e alla fine ciliegina sulla torta mortale dalle 21 alle 24 il reveal party della morte con to reveal reveal party reveal party of death ci sta con tutte le nostre nuove sto per chiedere sto per chiedere uno spoiler allucinante con tutti i nostri nuovi prodotti ma la roba che cioè ci toglievano l'IP subito tutti i nuovi prodotti che lanceremo nel 2021 e anche facendovi vedere alcuni sneak peek dello stato lavoro e di prodotti già annunciati che usciranno a breve cyberpunk facciamo vedere qualcosa magari anche di cyberpunk così PCS è felice e e dopodiché stappiamo bozza bozza di bozza di di shampoo e via e dopodiché ragazzi lanciamo qualche preordine fighissimo ma ma cosa c'è ma c'è ma nel senso ma o ma chi lo sa ma chi lo sa sì insomma mi è stato legato decido io sì lanceremo qualche preordine marchino inizia a pensare a cosa perché non so un cazzo e dopodiché ragazzi finirà la Nilcon settimana successiva 24 sera canale Twitch degli amici di Intel Fabola Ultima Bravely Default 2 venerdì canale Twitch degli amici di Intel gameplay del videogioco di Bravely Default 2 sabato 27 febbraio tutto il giorno sul nostro niz sì sul nostro discord Bravely Default 2 con Fabola Ultima dalle 10 mattina a mezzanotte tavoli a manetta per tutte le sessioni per la Nilcon si aprirà questo pomeriggio alle 16 su Eventbrite i link per iscriversi lo spameremo ovunque lo troverete sul nostro Facebook sul nostro Instagram sul mio Instagram sul nostro canale Telegram ragazzi vi informiamo che il nostro canale Telegram e su Twitch lo vediamo degli sneak peek in esclusiva quindi se volete sapere delle novità aggiuntive su tutti i nostri prodotti li potete trovare sul nostro Telegram e su Twitch e anche su Discord intanto ragazzi perciò quando ci sono gli spazi vuoti di venerdì e sabato venite sul nostro Discord che comunque noi siamo sempre lì e magari io quasi quasi sabato mattina faccio pure giocare qualcosa così vediamo se mi gira tanto Silvia non c'è top sono nerdare durissimi detto ciò ragazzi un altro sneak peek veloce perché è una cosa io lascerei un secondo qua fisso perché io impazzisco solo a vedere sta cosa qua vado fuori di testa breve default 2 e fabola ultima non lo so lasciamolo qua volevo adesso vedere se avevate qualche domanda su in questo caso qua ragazzi abbiamo anticipato ad oggi il marco ledì che è dedicato a fabola ultima però il marco ledì perché comunque siamo troppo troppo felici quindi non vi chiedo neanche scusa perché dovreste essere felici anche voi anzi dovreste tipo essere lì nudi a idolatrare divinità dei gd rpg se avete qualche domanda su fabola in particolar modo su la needcon o sull'eventi che andremo a fare dedicati a fabola e a breve lì default 2 chiedeteci e vi sarà ruolato così vi dico tutto quanto ultima info da persona sorda quando uscirà il quick start tra pochissimo potrebbe addirittura essere questa settimana o male che vada l'inizio della prossima settimana secondo me entro il 22 esce tutto però volevamo è già pronto questo qua è definitivo questo qua è solo da mettere pubblicarlo sul nostro sito però vogliamo ancora farvi crescere un pochettino live perché sapete che è pronto cioè è meraviglioso anzi se mi fate delle domande sulle qualsiasi cosa vedo se ci sono già le risposte qui dentro sulle regole che è fighissimo per la sessione dei ragazzi interi perfetto per la sessione dei ragazzi interi quindi entro il 24 il 24 il 24 esce esce il quick start vi ripeto ragazzi il 27 noi facciamo giocare questo quick starter quindi se volete giocarlo con noi capire bene come si gioca fabula leggetevi solo le regole che sono le introduzioni le regole dopodiché leggetevi le le schede pg non state a leggervi l'avventura che vi spoilerate tutto e io vi vedo che fate metagame stronzi vi vedo quindi non fatelo no tu tu stai leggendo già troppo ma la domenica si giocheranno tutti i giochi oppure soltanto alcuni no tutti nel senso chi prima arriva meglio alloggia cioè ci sono ci sono tot tot tavoli per ogni gioco quindi non è che ce ne sono infinite sto pomeriggio ragazzi vi consiglio di buttarvi c'è sempre ci trova sempre uno slot si trova sempre posto pendro abbiamo fatto 4 o 5 posti ai tavoli per le sessioni 5 per favola 4 per gli normali ok ci saranno per i vari giochi 5 posti per favola perché c'è una richiesta folle 4 per gli altri nostri giochi ci sarà tutto se non sbaglio posso dire che ci sarà anche quello che porta Lake ci sarà in anteprima anche da provare Soulbound quindi Age of Sigmar c'è un tavolo per tutti i tre turni c'è un master che è il nostro master Matteo Lago Negro Mattia scusate Mattia ragazzi scusate sono emozionato sono emozionato cioè l'ho sempre chiamato Lake c'è Lake ovvero Mattia Lago Negro che fa giocare Age of Sigmar Soulbound quindi se qualcuno lo vuole provare può giocarlo lo linkeremo su Telegram sì assolutamente quanto durano le sessioni 3 ore 3 ore in sessione dove si spiega il turno dalle 15 alle 18 dalle 18 alle 21 dalle 10 alle 13 dalle 15 alle 18 dalle 18 alle 21 questo è l'orario delle sessioni per prenotarsi su Eventbrite se aveva un account penso di sì giusto? ragazzi non lo so su Eventbrite se aveva un account sì se aveva un account vi andate a farlo subito questo qua è un ottimo trucco fatevi adesso l'account perché se poi arrivate dicono sono qua alle 16 sono un gaggio da una donna ah ragazzi importante importantissimo per iscriversi su Eventbrite prima di iscrivervi dovete essere iscritti al server discord di Nidgames perché vi chiederà il vostro nickname sul server quindi per partecipare alla Nidcon e in generale a qualsiasi nostro evento andate sul nostro server discord trovate tutti i link sul nostro twitch iscrivetevi dopodiché mi raccomando schiacciate il dado all'interno dell'introduzione che ci sono una marea di persone che si è iscritti diciamo non vedo gli altri canali e grazie al cazzo devi leggere il coso iniziale e poi schiacci il dado e vi apre tutto perché dai l'ok al fatto di non essere un imbecille e di comportarti come un essere umano normale dopodiché vi iscrivete su Eventbrite così siete già pronti alle 16 appena arriva Pedro che cala l'asso di bastoni sul 3 di bastoni mettendovi i link di Eventbrite e vi iscrivete come dei pazzi questo è l'iter da fare le sessioni sabato su fabola saranno divise in base al tipo di jrpg da giocare no perché si deciderà assieme ragazzi in fabola si decide assieme il setting quindi quando si siede al tavolo si decide con gli altri giocatori che cosa giocare natural fantasy high fantasy o techno fantasy io se riesco faccio giocare più robe possibili di fabola ultima io impazzisco questo gioco qua i present sono come diceva sono high fantasy ma si può fare tutto quindi c'è vedi è dettagliato al tavolo basta mi sembra di aver risposto a tutte le domande possibili inimmaginabili relative alla nid ah sì allora tutto quello ragazzi che andremo a fare sarà possibile recuperarlo perché lo caricheremo tutti i sui tablet tutti i panel li andremo a ricaricare se li troverete qua su twitch ma li andremo a ricaricare su youtube e adesso vedrete marchino e pedro che sbiancano perché non è stata avviata la registrazione di questa puntata a registra twitch finita troverete mai più questa puntata sicuro sicuro registrarà un cazzo però detto questo allora se non ricordo male mi sta scrivendo Marco l'anno scorso per prenotarsi su eventbrite mi era chiesto solo il profilo di discord per prenotare il biglietto è ancora così? sì quindi non devi scriverti a eventbrite deve solo essere iscritto a no secondo me perché vi hai detto il nickname sul server ah sì vabbè sì in senso sì ok sì basta essere iscritti lì a discord però serve perché in automatico dopo da eventbrite ci arrivano i nickname di chi si è iscritto se non fanno parte del server noi dobbiamo dopo fare tutte le stanze a cui dare i privilegi ai vari giocatori se non sono iscritti non possiamo farlo quindi iscrivetevi non la consideriamo valida esatto non viene considerata valida bravo pedro bravo severo ma giusto princess mononocchio jade cocoon bravi ragazzi siete persone di cultura ah vabbè ma è rooster nel senso nel senso ma se non mi scrivo ai tavoli ma vorrei seguire una sessione devi scrivermi comunque allora ragazzi visto che molto spesso nei nostri eventi ci sono persone neofite lo sapete perfettamente quando si inizia a giocare di ruolo si è timidi se io faccio una sessione e ho 200 persone che ascoltano magari per le persone che sono al loro primo approccio diventa difficoltoso quindi noi di solito non facciamo ascoltare le sessioni ma se faccio giocare io io chiedo sempre il permesso agli altri giocatori se qualcuno può ascoltare quindi quando le persone si iscrivano dopo io gli iscriverò quindi se nelle mie sessioni si potranno ascoltare lo renderò pubblico però di base no non si possono ascoltare le sessioni è una questione di rispetto perché chi si gioca per giocare non si gioca per fare show in quel momento esatto vuole essere focussato non vuole sapere no 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 la gente che vuole ascoltare vuole ascoltare non per lo show vuole ascoltare perché vuole imparare il gioco ma soprattutto se io sono lì a giocare per la prima volta ok quindi adesso vediamo ok magari per i tavoli non per neofiti vediamo cosa riusciamo a fare però di base no abbiamo sempre fatto così no per giocare e basta allora domanda tecnica ma nel pranzo di ruolo si pranzerà anche o se ruole basta nel momento in cui il samu disgustoso tu inizierai a farmi avere dei panini dalla tua taverna allora io inizierò dal tuo gentilorco bastardo inizierò a mangiare perché io potrei anche mangiare ma ho questo piccolo difetto di urlare come un imbecille quindi pensate alla meraviglia ragazzi se io adesso mentre inizio a urlare mi parte un pezzo di Big Mac sulla telecamera piuttosto che sgaracchio un pezzo di patatina in faccia a Marchino mi esce il tè verde dal naso una roba disgustosa quindi non è il caso adesso di mangiare ancora altre cose che mi sono dimenticato no mi sembra di aver detto tutto quanto il programma della Nidicon sarà disponibile da appena finiamo finiamo questa live quindi potrete anche avere un recap di tutto il resto ricordatevi ragazzi fondamentale per partecipare alla Nidscord ricordatevi bene il vostro nickname di Discord e da inserirlo se lo mettete noi è capitato di mandare delle mail ma visto che ci arrivano centinaia e centinaia di iscrizioni se voi non lo mettete non potete arrivare poi dopo il giorno della Nidicon e dire ah mi sono dimenticato di darvelo sono andato al mio tavolo e era già tutto pieno faccio sì ragazzi perché c'è un lavoro da fare prima enorme se anche solo 15 di voi se lo dimentichano e sono tutti nello stesso turno abilitare tutti quanti vedere dove essere andato uno dove è andato un altro gli altri giocatori che vi aspettano è un casino quindi rispettate gli altri giocatori rispettate gli organizzatori per favore perdete tre minuti del vostro tempo per cliccare sul vostro nick che in automatico viene scritto copia quindi c'è fatelo per favore altre cose per la Nidicon tutti i panel che faremo saranno online sul nostro Twitch quindi li troverete i panel non sono su Discord sono sul nostro Twitch di Nidgames verrà comunque se ve li perdete ricaricato su YouTube su YouTube TV sì scusate su Nidgames TV sul nostro canale di YouTube quindi state tranquilli una cosa importante ragazzi spero non ci sia bisogno di dirlo però noi lo diciamo sempre quando partecipate a questi eventi sono eventi totalmente gratuiti che organizziamo noi che però hanno una grossa mole di lavoro dietro grossa pensate anche solo comunque noi questa sera faremo tutti degli un evento per i master su come poter gestire al meglio le demo di fabula ultima c'è Pedro che sta impazzendo a fare i Tetris mortali con tutte le sessioni c'è la disponibilità dei master c'è un grosso lavoro dietro c'è tutto lo staff che si sta facendo un culo così anche solo per organizzare l'evento di sabato sera impegnativo noi vi chiediamo solo una cosa il rispetto ovvero comportatevi in maniera educata quando siete al tavolo io faccio un esempio quando gioco di ruolo mi rendo conto che sono molto accentratore cerco che sono molto egocentrico e quindi mi capita di parlare sopra e sono un giocatore terribile terribile se giocate con vostri amici è un conto però portate rispetto per gli altri giocatori ci sarà quello più timido ci sarà quello che magari non vi sta particolarmente simpatico ma date lo spazio a tutti crescete assieme agli altri giocatori sia che siate esperti sia che siate neofiti se c'è qualcuno che neofita aiutatelo se c'è qualcuno che invece ne sa più di voi fateli delle domande chiedetegli e cogliete l'occasione per farvi nuovi amici perché nell'esatto momento in cui non ci sarà più questa pandemia e si tornerà alle fiere potremo ricominciare ad abbracciarci potremo rivedere le persone che abbiamo giocato online potremo ruolare duro dal vivo ma nel mentre abbiamo fatto un enorme lavoro di community abbiamo trovato tantissime persone in cui diventare amici tantissime persone con la nostra passione che è la passione più bella del mondo e troviamo tantissime nuove persone con cui giocare di ruolo basta uccidermi ottone ogni volta che mi dite eh non trovo nessuno con cui giocare non esiste non esiste siate educati siate gentili venite con la voglia di giocare e non con la voglia di rompere i coglioni e divertitevi se seguite queste tre semplicissime regole non serve a nient'altro facciamo tutto quanto noi i master portal avventura vi spiegano le regole ci sono i bot per i dadi non vi serve a niente quindi venite lì e giocate e giocate col sorriso per avete ognuno ha dei casini incredibili nella vita specialmente in questo periodo qua per quelle poche ore che venite a giocare con noi usatele per liberarvi da questi problemi usate il GDR per volare con la fantasia e per estragnarvi dalla vita per qualche ora è la cosa più bella quindi mi raccomando l'unica cosa che vi chiediamo è questa perché è la cosa più importante alla fine delle sessioni ci saranno le survey dove potrete dire come vi è sembrata la needcon che cosa vorreste vedere nelle prossime needcon nei prossimi eventi online vi chiediamo la cortesia di compilarlo perché per noi è veramente veramente utile non vi vengono chiesti dati sensibili vi vengono chiesti semplicemente come vorreste che gli eventi online che facciamo possono migliorare aiutateci a migliorare perché più miglioriamo più siamo in grado di darvi un'esperienza di gioco migliore più ci divertiamo tutti quanti assieme questo qua è per noi la cosa fondamentale detto ciò ragazzi se avete domande sulla needcon o sugli eventi di bravely default 2 per favola ultima chiedetemelo così vi rispondo adesso al volo dopodiché finalmente posso andare a mangiare non dal gentilorco perché Samu non mi ha fatto mangiare nulla ciao io sono un neofit e mi piacerebbe ruolare con qualcuno di cosa state parlando? ciao zack allora noi siamo needgames siamo una casa editrice di giochi di ruolo e questo weekend venerdì sabato e domenica facciamo la needcon che è la nostra festa la nostra convention dove si potrà giocare di ruolo se tu vuoi giocare di ruolo vuoi iniziare anche se non hai mai giocato di ruolo è perfetto infatti vai sul nostro discord needgames trovi il link nel sotto qua sotto su twitch ti fai il tuo account è una cazzata se hai un discord qualsiasi basta che ti iscrivi al nostro server questo pomeriggio alle 16 verranno fuori su tutti i nostri social discord compreso il link per iscriversi ai nostri eventi scegli il gioco che ti piace e ti iscrivi non serve a nulla che tu conosca il GDR ci saranno anche delle sessioni fatte apposta per i neofiti quindi vada a dio vai iscriviti gioca non essere timido buttati divertati come un mazzo divertati divertiti come un pazzo sbaglia fregatene abbiamo la fortuna di avere una community incredibile quindi benvenuto nel mondo del gioco di ruolo anche tu vedrai che il ruolo durismo crescerà potente in te da proprietario del gentilorco noi ti aspettavamo quando eravamo aperti sì certo come no non mi ricordo neanche quando le cose erano aperte quindi non esiste volevo dire un'altra cosa ma non mi ricordo cosa niente non mi ricordo ah sì se volete vedere vedere aspetta un secondo qua c'è una domanda c'è una domanda importante le persone mi fanno le domande ci stanno bene io ho un problema zio bene male che ne ho solo uno io qua ne ho due si chiamano Marco e Pedro ho iniziato una campagna di endi quinta come bardo e il player che ruola il barbaro si offende per scherzi innocenti al suo personaggio devo smetterla o far capire che parte del gioco allora mi fate incazzare sempre come delle bestie questa cosa qua non devi chiederla a me devi chiedere al tuo amico con cui giochi devi dirgli zio ma perché ti incazzi cioè io sono un bardo caotico buono mi sembra che giochi così a cui faccio degli scherzi è molto cacciarone se devi capire se si offende il giocatore o il personaggio questo è fondamentale perché se il personaggio si offende ci sta che magari è un orco barbaro incazzatissimo serissimo e che si offenda se si offende il giocatore invece no allora c'è un problema perché bisogna scindere sempre tra giocatore e personaggio ti può stare antipaticissimo e dovresti uccidere il personaggio di un giocatore ma non ti deve stare antipaticissimo il giocatore se no c'è un problema quindi paglielo tranquillamente e dipende tutto dagli scherzi dagli scherzi che fai se mentre sei in combattimento gli casti grasso sulla sull'ascia e vola via magari uno scherzo del cazzo se invece mentre parla gli fai fare dei rumori strani allora ci può anche essere divertente però dipende sempre e non esagerare perché il troppo stroppia sempre l'importante è parlare con la persona Marchino le sugezze perle di Marchino le perline del pirlino parlate è sottovalutata come cosa è la soluzione più semplice di tutte ma parlando si risolve tutto quanto ma in on o in off eh sì in on esatto quello che ho visto anch'io di base se so che smetti chiedi come preferirebbe che si comportassi perfetto ragazzi allora è l'una e mezza ragazzi ci possiamo anche andare a pranzo noi oggi a un orario anche umano abbiamo tantissime cose in serbo per voi alcune cose della settimana allora domani sera sarò ospite su il degli amici di Intel per parlare con loro per un po' di chiacchiere questo mercoledì e non solo perché domani sera domani sera siamo anche sul canale disgustoso di ventifacce ci sarò io e facciamo una bellissima one shot del range venite a vedere me sta cosa comunque del vietato a Nicola se rinziano un attimino a farmi già ricoglione no e come le vietate a Nicola perché non so un cazzo ha clippato? non lo so però non so ha clippato? forse no ma vi rende detto il conto come mi trattano poi le persone ci dicono voglio venire a lavorare da noi no è una merda cioè dobbiamo vendere sto range o no? si ho capito però vedate a Nicola non va bene detto ciò ragazzi scusatemi quindi domani sera io sono sul canale Twitch di Intel Pedro è sul canale Twitch di 20 facce di Samu a giocare Re in giallo siamo oggi alle 6 e mezza perché facciamo i personaggi anche oggi oggi alle 6 e mezza canale Samu canale 20 facce noi lo possiamo stare noi lo ospitiamo noi lo ostiamo faremo i personaggi anzi faranno visto che vietate Nicola brutto stronzo perché non ci sono? perché? perché voi sapevate cosa fare io non sapevo che c'era sta roba qua eh visto che scaso e ci sarà il la creazione dei personaggi del re in giallo quindi sul canale di Samu 20 facce alle 6 e mezza dopodiché mercoledì torniamo con non faremo a questo punto il mercoledì da fabula perché l'abbiamo fatto oggi vediamo che cosa fare magari anticipiamo se fate il re in giallo magari potremmo fare la one shot del re in giallo mercoledì cos'è dici marchino? la skill tank shock is friday lo faccio mercoledì lo faccio any given shot any given shot facciamo qualcosa comunque potremmo fare visto che cavalchiamo il re in giallo facciamola assieme una one shot del re in giallo mercoledì quindi vi spiegherò il re in giallo e vediamo i personaggi facciamo la one shot del re in giallo mercoledì mercoledì pomeriggio alle diciassette we need to talk con pedro e sai già di cosa parlare pedro? saranno alcune cose interessanti si parlerà di witcher? si parlerà di witcher? parleremo witcher parleremo toss a coin to your witcher o valeo pedro purtroppo ancora di cambi con sé perché non ci da pregua cambi con sé altra roba esce? non ci da non ci da pregua non ci facciamo più non ci facciamo più salvateci ok quindi altra roba poi giovedì tranquillità figuriamoci facciamo qualcosa anche giovedì? non so se vogliamo anche lavorare magari giovedì facciamo anche qualcosa non in programma ma sì ma perché no venerdì a pranzo c'è la need games history cazzo 4 anni facciamo già un history a 10 anni 10 anni facciamo fondazione need games no fondazione vuol dire che sono morto no 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 non va bene no invece la sera live della famiglia di need games e poi sabato e domenica si parte con la need con a cannone ragazzi grazie questo è il quanto è stato sono estremamente stanco perché è stato un weekend intenso per organizzare questo questo lancio qua perché ridi è passato un bel weekend un po' bello chissà che è passato un weekend migliore eh Pedro ovvio Pedro Pedro è passato un weekend migliore noi invece quindi capite perché siamo così felici non vediamo allora anche voi che possiate comunque mettere le mani sul sul quick start di fabola ultima dedicato a bravely default vi ricordo è solo un assaggio il quick start vero è proprio sarà un quick start più ciccioso che uscirà più avanti l'uscita del gioco è fissata per novembre vi ricordo il 26 febbraio l'uscita del videogioco bravely default 2 che tutti i patiti jrpg stanno aspettando quindi giocatelo e preparatevi anche a fabola ultima con quello detto ciò ragazzi noi ci vediamo questo pomeriggio alle 6 e mezza sul canale di samu domani sul canale di samu e sul canale di twitch e poi mercoledì torniamo per fare la one shot assieme del rain giallo quindi scopriamo il rain giallo assieme ragazzi iniziamo noi a lavorare su sulla needcon ci buttiamo così vi daremo la massima esperienza di gioco possibile andiamo a pranzo adesso che abbiamo una fame babbuina grazie per averci seguito grazie mille per l'affetto che ci avete dimostrato e spero che appreziate questo regalo che ci ha permesso nintendo di farvi con bravely default 2 noi andiamo a mangiare voi prendetevi un po' di tempo per ah giusto just eat nel senso per mangiare o per anche lo josh tutte e due andate a followare immediatamente anche il josh che fa figate fa i vari le varie strip sui sul di fumetti sui gdr ma soprattutto fa anche degli accessori molto belli legati al gdr e per il resto ragazzi come sempre continuate a ruolare duro alla nico alla nico bravo marchino ciao ragazzi grazie mille e a prestissimo adio è partita di nuovo marchino sono live di nuovo ehi la adesso capisco come le persone finiscono nude in live ehi ciao bentornati questa quella nuova non ho toccato nulla io sì facciamo facciamo un tipo tipo il il teaser diciamo diciamo un gioco che facciamo no 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 ti vanno allora dico diose allora diose vedi vedi guarda che siamo di nuovo live guarda che siamo di nuovo live allora che stavamo dicendo ragazzi velocissimo velocissimo ragazzi posso dire un'avventura che stavamo